O sei per noi, discuta di ancora, sei lì, voi, bello a noi. E' l'ultima partea, Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Già, Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. Gesù si l'ora al sol, e' te ne parecino, la vita mia perdon. che vengono bene il cammino si finisce, dal tuo amano non vola e cadastra l'asta. Il cuoco colo in cammino, che le fai in te la dita, su casa e su pello. Gesù, Signore, col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Il cuoco colo, Gesù, che ci diceva, se sveglia in noi l'artore di seguirti, se la gioia c'è nel passo alla stanchezza, la tua voce qua rinasce in freschezza. Il tuo cuoco colo in cammino, cerca in te la guida, sulla strada verso il regno, se il sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Si è lodato, ringraziato ogni momento. 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 Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrava innanzi. Alcuni però dubitavano che Gesù, avvicinato, si disse loro, mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Mandate tutte, ma maestrate tutte le nazioni. Pratezzatore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnando loro a sospettare per ciò che vive in maniera. Ecco, io sono voi. Noi affidiamo queste strade, queste case, la nostra vita quotidiana alla sua bontà. Le nostre strade siano strade di Gesù. E' nostra benedizione per questa nostra giustà. Cristo è in persona la benedizione divina per il mondo. Prodigio di carità dello Spirito Santo. Noi benediamo. Frutto benedetto della Vergine Maria. Noi ti auguriamo Sacramento Pane vivo disceso dal cielo. Ciao! Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Ave Maria. Il Santissimo e Divinissimo. Questa è una strada che chiedono, ci sono due cappassi di pochi d'acquisto. Ma li sparano quando passa lui però? Quando passa il sacramento. Cos'è? No, no, no. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. E andiamoci tra noi con cuore sincero. Per carità e l'amore qui c'è Dio. Noi portiamo qui riuniti un solo corpo e viviamo di dividerci tra noi. Via le lote, valli e via le liti. E regnimento a noi, Cristo Dio. Per carità e l'amore qui c'è Dio. Chi non amare sta sempre nella notte e dall'ombra della morte non risorge. Ma se noi camminiamo nell'ombra della morte non risorge. Per carità e l'amore qui c'è Dio. Per carità e l'amore qui c'è Dio. Em sufna il Economista e il Porto Corso scorso esattere la morte non risorge. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.